Salve a tutti signori e ben ritrovati qui su Pausa Caffè. Facciamo assolutamente chiarezza perché arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per tutti i datori di lavoro che intendono quindi concedere ai propri dipendenti, a coloro che lavorano appunto per loro, che hanno giustamente figli a carico che diano somme o rimborsi a titolo di benefit, tutte cose che comunque sta dando lo Stato. Si tratta di una sorta di bonus che è stato introdotto con il decreto lavoro parato dal Governo proprio nelle scorse settimane, di cui tuttavia potranno beneficiare soltanto i lavoratori impiegati in aziende che decideranno di erogare l'aiuto. Quindi attenzione a chi usufruirà di questo aiuto qui, quindi non tutti lo faranno. In una circolare diffusa ieri l'Inps ha fornito i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal decreto lavoro che ha innalzato per il 2023 fino a 3.000 euro. Al posto dei 258,23 euro previsti per tutti, il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti configli beni e servizi esenti da imposte, come per esempio le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas. Per i dipendenti configli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall'IRPEF, così come dall'imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3.000 euro ricevuti dal datore di lavoro. L'Istituto di Previdenza precisa espressamente che rientrano nell'agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. L'agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. L'Inps ricorda poi che, per l'amministrazione fiscale, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro, all'ordo degli oneri deducibili. Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31 dicembre di quest'anno. L'Istituto chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato. Infine l'Inps spiega che per accedere al beneficio il dipendente deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Per questa dichiarazione non è prevista una modalità specifica e quindi può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Nel caso venissero meno i presupposti per l'agevolazione, per esempio nel caso in cui, nel corso dell'anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. L'azienda recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.